In questa video guida parliamo di zaino e scuola media. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. La scuola media si frequenta durante quell'età nella quale un ragazzino non è né del tutto un adolescente né del tutto un bambino. Scegliere uno zaino adatto a chi ha questa età, dunque, non è facile perché i gusti estetici che si hanno da bambini vanno a scontrarsi con i gusti estetici che si hanno da adolescenti. Gli zaini per la scuola media, generalmente, utilizzano colori accesi o comunque vivi, rosso, giallo, fucsia, arancione, rosa e via dicendo, ma sono più sobri dal punto di vista dei disegni presenti su di essi. Chiaramente, esistono anche zaini per scuola media che propendono più per un'estetica adulta e zaini che propendono più per un'estetica apprezzata dai bambini.